A seguito del rinvio che ha fissato la nuova data di The Day Before al prossimo novembre Prima su PC e poi quando sarà su Xbox e PlayStation 5 Diciamo che su questo progetto se ne sono dette un po' di tutti i colori C'è chi sostiene che non esisterebbe, che sarebbe solamente qualcosa per attirare investitori, no? Tutte ste voci Fatto sta che a distanza di poche ore da quando poi le polemiche sono impazzate È uscito un trailer di gameplay, quindi una sequenza più che un trailer Di una decina di minuti che dovrebbe confermare l'esistenza del progetto Allora, noi di questo The Day Before abbiamo parlato poco Si tratta di un MMO targato Fantastic Che si pone come un'ipotetica risposta a chiunque desideri un mix fra The Last of Us e The Division Ora, vediamolo insieme, chiacchiereremo anche perché credo che non si vedrà granché O meglio, non parleranno granché nel corso perché avremo tempo e modo di chiacchierare Partiamo e discutiamone un po' Perché potrebbe essere una bella occasione per confrontarci un po' sul progetto interessante Sicuramente promettente Spadiamolo in 4K Io, ripeto Il budget abbiamo Adesso si capisce esattamente dove sia finito Devo dire, sì Anche voi Ma comunque, al di là di questo A me ha sempre colpito Per l'atmosfera Per l'atmosfera Perché obiettivamente Ricorda tantissimo The Last of Us Come impatto Mi richiama tanto anche State of Decay 2 Per magari averlo visto Lei sembra tipo Lara Croft, vabbè Però in generale C'ha quelle vibe anche di The Division Se vogliamo Della zona nera Una delle cose più belle di sempre Una delle tante cose che Ubisoft non l'ha mai sfruttato Vabbè Prendiamo che i modelli del personaggio Dei personaggi Non mi sembrano in linea con il contesto Però Sono fortemente incuriosito Anche perché io non l'ho guardato Sto campanello Vabbè guardiamolo insieme Quindi grande focus Sulla raccolta di materiale Per far poter creare Munizioni E strumenti vari Si può lavorare su C'ha un po' di stalker Diciamo che Il progetto è chiaramente Super derivativo Ma proprio A dei livelli Surreali Però Per me non rappresenta un problema Questo Nel senso Ben vengono i progetti derivativi Se ben fatti Alla fine Che cos'è che non è il derivativo Per il giorno d'oggi Per cui Però certo Si vede Si vede tanto Tanto Comunque A livello di personalizzazione Delle armi Si ma veramente Però fateci vedere qualcosa Nel senso Ora va bene Musichetta da ascensore Magari Io non voglio dire Che sono con quelli Che credo che il progetto Non ci sia Ok Non lo voglio dire Perché non è così Poi In fin dei conti Credo che il progetto esista Sul serio Però c'è una parte di me Che quando vede queste sequenze Tu mi stai a far vedere Il sacco di mirini Il sacco di cose Però non mi stai a far vedere Concretamente Cosa accade Poi a schermo Dopo Avrei preferito Una sequenza Montata In cui Ci avessero fatto vedere Dopo ogni modifica L'utilizzo di quell'arma Il fatto che tu mi fai vedere Tanta personalizzazione E poi Di fatto Non vedo sparare Vabbè Comunque Poi ho letto Che hanno fatto anche Una sequenza In cui uno sviluppatore Si mostrava Mentre giocava Però Poi ripeto Ragazzi Qui parliamo di un MMO Quindi Cooperazione a bomba Quindi Progetto di una certa Ambizione Allora Io devo essere Brutalmente sincero Ragazzi Questi video Nascono anche per quello Io Io sono Sono Cioè Dopo questi primi minuti Sono preoccupato Un po' Perché qui Cioè Tutto Tutto Per ora C'ha il sapore Di una Di una Tech demo Ma di quelle Proprio Che il gioco Non c'è Non so se avete fatto caso A Agli infetti L'unica cosa Che hanno fatto E' stato Puntare i piedi Perché l'animazione Era un Ma Non hanno neanche Accennato Un movimento Neanche Accennato Che non fosse Un Ti metto paura Non lo so Però Costituiamo a guardare Magari Cioè Il discorso è Un MMO Solitamente No Dovrebbe Eh Ci siamo capiti Qui non vedo Nuna di tutto ciò Contesto Completamente Morto I modelli Ripeto I modelli Sono 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 Veramente Sembrano Appartenenti A un altro Tipo di concept Emessi qui Cioè Non c'è Armonia Ho trovato proprio il termine Non c'è Armonia Fra Il contesto E i personaggi Che ci sono dentro Sto contesto Che poi L'idea Funzioni Ragazzi Cioè È ovvio Che funziona Prendite la Stovask Che è una delle cose Più popolari Del contesto Contemporaneo La mixi Con L'idea Alla base Di The Division Che è una figata Che solo Ubisoft Poteva distruggere È ovvio Che funzionerà Come idea E che comunque È ovvio Che possa Suscitare Un certo interesse Nel pubblico Il problema È che La percezione Che ho io Guardando Da perfetto Sconosciuto Che non È quella Di un progetto Che non è Che non è Che non ha ancora Preso realmente Forma Le accuse Di Progetto Fantoccio Non le condivido Perché parto Dal presupposto Che Che le persone Cioè Parto dal presupposto Che mi piace Concedere il beneficio Del dubbio A tutti Partendo da Un presupposto Di fiducia Ok Però capisco Osservando Quello che stiamo vedendo Che cosa Abbiamo potuto Spingere alcuni A sostenere Che il progetto Non esista Perché volendolo Osservare Da una prospettiva Un po' cinica E super pessimistica E un po' Negativa Quella Quelle Quelle vibe Le dà anche A me Un pochino Sotto certi aspetti Lo fai muovere Però Io vorrei vedere Uno avvicinarsi Per vedere Come si avvicina Sarà bello Che Che la Protagonista Fosse sorpresa Così che si potesse Vedere Non lo so Sono Sono super Super Dubbioso Ragazzi Ma proprio A livelli A livelli Notevoli Cioè Mi sembra Il mondo Del playmobile Mi ricorda Sapete cosa Come si chiamava Quel Quel gioco Simile A The Last of Us Che vi ho portato Tipo due anni fa Che l'avevo Proposto tutto Sotto forma Di battuta Super ironico L'approccio Non mi ricordo Il nome Che era un po' L'antesignano Dei 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 Tiettelo Cioè È È È Tipo Che È Quel gioco Tipo turco Io Ho fatti talmente Tanti dei video In questi anni Che non mi ricordo Più niente Di alcune cose Però Cavolo Lo ricorda Un po' Per certi Versi Era più curato Quello A livello Tecnico No Che poi Che poi Onestamente Siamo partiti Con questo The Day Before Che veniva dipinto A destra e a sinistra Con Ah Adesso arrivate The Day Before Attenzione La risposta Alle preghiere Del mondo Del mondo Tutto Io sono sempre stato Abbastanza Abbastanza Freddo Su sta cosa Perché boh Sarà che non ho viste Tante in questi anni Però Boh Cioè Non mi sta Trasmettendo Nulla Nulla E quando un gioco Non ti trasmette Nulla A volte Vuol dire Che il gioco Non c'è Nel senso Che l'anima Del gioco Non esiste Ed è Una situazione Che mi provocano Spesso Molti Tiette Che Fanno sta cosa Che schiacciano Il bagarosso Per terra E poi Se Se gli va Se gli dai tempo Ti caricano Però C'è sempre Oh Ecco Modelli Tutti uguali Peralta Da quello che ho visto Magari mi sbaglio Sono tipo tre modelli Che si ripetono A nastro Se ha per stesse facce Sono chiaramente E volutamente Super pessimista Eh ragazzi Super cinico Nell'analisi Ah è finito già Vabbè Perché dobbiamo esserlo In questa fase Cioè vivendo col dubbio Che ci sia effettivamente Qualcosa che non va Io devo Cercare veramente Il pelo nell'uovo Però Non lo so Ma Ma dando sensazioni Un po' così Un po' così Curiosissimo Di sapere cosa ne pensate voi Io vi lascio il link A sto video Così potete eventualmente Rivedervelo Anche senza il mio faccione In mezzo Date un'occhiata Fatemi sapere Cosa ne pensate Parliamone un po' Anche perché Io sono molto tiepido Molto tiepido Sul progetto E onestamente Quello che ho visto Tutto ha fatto Tranne che mandarmi in hype Cioè se questa Se questa deve essere La rassicurazione Di un progetto Che sembrava Alle porte Da tempo Che ciclicamente Sta per uscire E poi non arriva mai Ora non dico Che siamo a livelli Di abandoned Però Se ne parla tanto Sulla base del nulla Ci si esalta tanto Sulla base del niente Per adesso E quindi io vorrei Essere un pochino Boh Non lo so Non lo so Sono 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 dubbioso Sono dubbioso Fatemi sapere Ragazzi Io vi aspetto Vi invito Come sempre A segnalarmi Cose che vorreste Commentassimo insieme Perché sto trailer Me l'avete Appunto Segnalato Dai fallo 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 Facciamolo Io sono sempre Disponibilissimo Allo si tratta Di fare due chiacchiere Però appunto Bisogna Bisogna Approfondire Seguiremo il progetto Da una discreta distanza Ma lo seguiremo Ragazzi Un abbraccione Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima